E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo video abbiamo appena finito di registrare minecraft e sono l'1.40 vabbè l'orologio è guava va un poco avanti eh, guardate cosa vogliamo fare sta cosa di qua dovrebbe fare lo zucchero fitato non so, tipo l'ho utilizzata la prima volta la prima volta che l'ho utilizzata tipo è stata quando l'ho comprata e poi basta quanto tempo fa? tipo due anni ah, pensavo da andiamo a fare l'unboxing della scatala allora se vuole aiutare ecco qua, qui ci sono le istruzioni vediamo cosa ne esce fuori raga questo radio quindi, la destra non si vede istruzione leggiamo e vediamo cosa le possiamo vedere mmmm l'abbiamo accesa adesso vediamo già si vende l'incantescenza lì sotto dovrebbe riscaldare tipo il piattello non so, una cosa del genere e poi e adesso ci mettiamo lo zucchero e vediamo cosa succede facciamo mettere tu passo metterlo tu io ti riprendo un misurino un misurino di questo basta raga abbiamo le bacchette del cinese perchè non avevamo gli stecchini adatti adesso si dovrebbe formare lo zucchero a velo adesso si dovrebbe formare lo zucchero a velo il zucchero a velo il zucchero a velo il zucchero a velo il zucchero a velo ragazzi non ci offendete però è la prima volta che stiamo facendo quindi scialla l'abbiamo l'abbiamo sta cominciando a comparire lo zucchero filato guardate qui raga che bello ragazzi poi ci sentiamo quelli alla fiera quelli a luna park dove fanno il zucchero filato ma qua già basta proprio forse lo vuole riscaldare un altro po' giallo aiuto non è semplice per niente fare di posto cosa vediamo come è venuto ok di sapore ci sta è come quello che vendono normalmente comunque al sapore di zucchero ah ci sta però sto orario si comunque alla fine è diventato caramello eccolo qua ragazzi si deve anche pulire non si deve lasciare tutto sporco adesso in una serie di slow motion che non si può un cazzo siamo adesso in una serie di slow motion che non si deve anche pulire ma Grazie per la visione!